Fondazione è salva, siamo riusciti a risolvere gli annosi problemi che la angustiavano. Il 2021 sarà ricordato come l'anno del risanamento per Fondazione Cassamarca. Una soddisfazione per il Presidente Garofalo che il suo insediamento si è trovato a combattere con un profondo rosso da quasi 78 milioni di euro e che oggi chiude con un bilancio di previsione addirittura in positivo. Io avevo redditato 40 milioni di debito su Fondazione, 155 più un paio di anni di interessi sulla strumentale. Rispetto a Fondazione abbiamo pagato quasi l'intera cifra. Per quanto riguarda invece la società strumentale, la forte diminuzione del debito che abbiamo estinto quindi con una cifra inferiore dipende da valutazioni di ordine strettamente giuridico, tecnico ed economico. Presidente che non vuole sentire parlare di sconti o facilitazioni da parte di Unicredit che anzi di fatto sfratterà dal monte di pietà alla fine di quest'anno. Noi abbiamo in piena armonia di rapporti dato la disdetta rispetto a un contratto di locazione che termina tra un anno. E per marcare ancora di più le distanze, Fondazione dopo aver chiuso i conti con Unicredit li aprirà con la banca di credito cooperativo delle terre venete, ovvero quella dell'avvocato Piero Pignata. Con Unicredit abbiamo convenuto e mi è sembrato un segno di grande professionalità che sarebbe stato bene nell'estinguere il grosso del debito, chiudere anche tutti quanti i nostri rapporti. Ora con una rinegoziazione importante del debito, si parla da 155 a 75 milioni di euro, Fondazione può iniziare una nuova fase dal titolo dismissioni immobiliari. Ho una norma che vuole che le fondazioni bancarie abbiano il 15% immobile e l'85 in titoli. Come si faccia ad arrivare a questo obiettivo? Ve lo dirò meglio quando avremo finito di studiare. Esclusa il momento alla vendita, per immobili come il Gigante Appiani si punta alla creazione di fondi di investimento. Infine il capitolo università, anche qui con tempi e soprattutto patti chiari. Se sono interessati a rimanere rimarranno, se se ne andranno saranno degnamente sostituiti da qualche università, visto che la nostra destinazione, quella che pensiamo per il distretto, resta primariamente universitaria.